A Libè rimane il cortile aperto ai turisti e ai leccesi che vogliono durante la notte bianca usufruire di questa bellissima location. Il dottore è proprietario della cantina Taurosso e questa sera abbiamo compiuto questa degustazione letteraria, molto bella, io davvero vi farei parlare con lui perché è un personaggio di grande tempo. Salve, allora quindi una iniziativa bellissima anche per questa sera che la notte bianca a Lecce ha portato molti turisti, molta gente. Sì, questa sera è stata caratterizzata dalla presenza di diversi, non solo turisti, ma anche di persone che sono venute per la notte bianca, quindi anche conterrani, diciamo, o meglio compugliesi. C'erano presenti qui persone di Bari, della provincia di Bari, c'erano anche persone estere, quindi c'era un signore professor universitario dell'Oregon che ha partecipato alla degustazione dei nostri vini. Credo che siano stati tutti entusiasti della serata, sono rimasti contenti e quindi abbiamo promosso ancora una volta il Salento. Grazie.